Puoi fare un mini quadro di Goku che si illumina il buio che costa poco? Ok E cosa fai? Non lo fai un mini quadro che si illumina dedicato solo a Goku? Ne ho già fatto una a tema Dragon Ball, ma rappresentava la storica scena del primo vero combattimento tra Goku e Vegeta e invece questa volta è tutto dedicato a Goku Eri un deciso sulla trasformazione, così ho pensato che sarebbe stato bello vederlo davanti a Namek trasformato per la prima volta Partito normale e tornato Super Saiyan dopo aver sconfitto Freezer Ovviamente è acquistabile sul mio shop, il link è sempre in bio E il primo, proprio quello che state guardando, è subito disponibile senza attesa Perciò il più veloce ad ordinare lo riceverà entro due giorni E adesso, guardate qua Alexa, spegni tutto